Oltre mille slot sequestrate, centinaia di gestori di apparecchi da divertimento denunciati, più di 30.000 schede manomesse e sanzioni. Per oltre 20 milioni di euro, controllo in tutta Italia, sono imponenti i numeri dell'operazione Cristallo condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha scoperto quella che sembra una gigantesca frode informatica e danni dello Stato. Migliaia di giocatori, di slot truffati. Le indagini sono partite dalla denuncia di una multinazionale leader nel settore degli apparecchi che aveva riscontrato anomalie nel funzionamento di svariate schede prodotte e installate all'interno di slot machine, poi distribuite in tutto il paese. Gli accertamenti dei finanzieri, che si sono avvarsi del supporto del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno scoperto il sistema torfaldino, che, stando all'ipotesi investigativa, consisterebbe nella sistematica manomissione dei contatori fiscali delle schede di gioco, riducendo illecitamente le vincite erogate. Tale comportamento provocava un duplice danno. Da un lato, la trazione del software della slot permetteva ai proprietari degli apparecchi e gestori compiacenti l'incasso occulto delle percentuali di gioco, moltiplicando così loro incassi senza ovviamente dichiarare nulla al fisco. Dall'altro lato, vittime della frode erano lineari giocatori, che vedevano drasticamente ridotte le chance di sbloccare i jackpot. La vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino, condotta anche attraverso il supporto di quasi 100 comandi provinciali delle Fiamme Gialle, ha interessato l'intero territorio italiano. Nella provincia di Torino, tre sono le aziende del settore coinvolto e distributrici delle slot, con sedia Torino e veneria Reale. Gli amministratori sono stati denunciati per frode informatica.